Bentornati e bentrovati a Storie. C'è un autore greco poco conosciuto della letteratura greca, ma che diventa importante per un episodio marginale, ma vedremo significativo. Questo autore poco conosciuto si chiama Platone il Comico. Non è Platone il filosofo, è Platone il Comico, è un altro Platone. Questo Platone il Comico racconta, è un comico evidentemente, racconta la vicenda di un uomo che si chiamava Faone. Questo Faone diventa importantissimo perché arriva sull'isola di Lesbo, lui è un uomo bellissimo, e tutte le ragazze dell'isola di Lesbo gli vanno dietro. E Faone immagina, scusate Platone, immagina che Faone faccia innamorare tutte le fanciulle dell'isola di Lesbo, compresa la fanciulla, la donna per eccellenza, che era Saffo. Saffo è la poetessa che nel VII secolo a.C. non solo abita sull'isola di Lesbo, ma attorno a sé ha costruito un Tias, ha costruito una comunità cultuale per educare giovani donne e giovani generazioni in maniera integrale all'amore. Ecco, Saffo pare, in questo racconto che ce ne fa Platone il Comico, si invaghisca di Faone e capendo che non potrà mai essere ricambiata perché brutta, perché si sente brutta, essa racconta, confida al Comico la sua tentazione di suicidarsi, perché in realtà alla fine, questo è quello che vuol dire Platone il Comico, tutte queste donne che avevano una dignità in realtà poi si scontravano contro il volere maschile. E quindi lui ridicolizza questa situazione dicendo vedete, è inutile coltivare la forza, la dignità delle donne quando poi basta un no di un uomo per farle andare completamente in palla. Questo episodio che ho detto è marginale, non so quanti potessero conoscerlo, diventa fondamentale per un altro autore, che secoli dopo scriverà di Saffo, quest'autore è Leopardi. Leopardi immagina che Saffo voglia veramente uccidersi e immagina l'ultimo canto di Saffo. In questo ultimo canto di Saffo, Platone, scusate, Leopardi, riprende la storia raccontata da Platone il Comico, riprende l'amore che Saffo aveva per Faone e riprende l'intenzione di suicidarsi. Perché brutta? Perché la vita aveva messo nel suo cuore un amore che poi non avrebbe mai più trovato risposta a riferimento. Quante volte noi pensiamo che la vita ci abbia messo nel cuore un desiderio che è un desiderio inutile perché non potrà mai essere realizzato. Ecco, Leopardi si immagina l'ultimo canto di Saffo come il canto di una donna che, come abbiamo visto nelle scorse puntate, vive con dignità, che educa generazioni di donne ma che vive un tormento dentro. Ci siamo domandati all'inizio di questa riflessione estesa sulla lirica monodica, quale fosse il punto centrale della lirica monodica. Abbiamo detto che la lirica monodica nasce per dire che al di là delle passioni politiche, al di là delle passioni sociali, c'è un'umanità che merita di essere difesa. E Saffo è testimonial di questa umanità. Un'umanità drammatica, un'umanità conflittuale, un'umanità che merita tutto il nostro rispetto. Sarà questo il lascito che Saffo donerà a tutte le generazioni successive. Una forte dignità, canti d'amore splendidi, ma soprattutto la consapevolezza del fatto che non si può diventare donne, non si può essere realmente donne se si smette di amare, se si smette cioè di costruire una vita che sia significativa per sé e per gli altri. E per far questo è necessario passare attraverso il dolore. Amore e dolore sono facce della stessa medaglia. Ce lo insegna Saffo, ce lo insegna la vita, ce lo insegnano in tanti. Ce lo insegneranno anche altri autori del mondo greco, che scopriremo sempre qui, sempre domani, sempre a storie. Saffo, ce lo insegna la vita, ce lo insegna la vita, ce lo insegna la vita, che va iniziare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.